vi volevo fare vedere cosa cosa ci serve per per far sì che venga abbattuta in modo corretto in modo sicuro ok logicamente mi devo vestire a norma con il dpi a norma di legge scarponi antitaglio pantaloni antitaglio casco con visiera cuffie cosiddette audio protettori guanti guanti non servono antitaglio per questo tipo di lavoro ma specifici per l'utilizzo della motosega quando vado a lavorare mi serve a portata di mano mi serve a portata di mano il lo zaino o una scatola di primo soccorso in questo caso io sono molto ben attrezzato è molto importante perché succede qualcosa prima prima andiamo a operare con l'infortunato prima meglio è possiamo che salvargli la vita poi per tagliare la pianta ci vuole una motosega logicamente funzionante ben affilata con il pieno di carburante è una cosa importante che noi utilizziamo anche il carburante achilato che diciamo è un carburante ecologico che non ho il tempo di spiegarvi ci serve sì che la motosega una cacetta perché quando noi andiamo a tagliare la pianta ci serve soprattutto per il controllo delle fibre della pianta che poi vedremo il cuneo non uno solo ma bensì più ne abbiamo meglio è poi vediamo anche dopo come come si usano poi in base alla pianta che abbiamo più più difficile è possiamo usare anche il martinetto idraulico che è questo qua sembra un cric da camio ma non è un cric da camio perché vedete ha la testina snodata con questo qua riusciamo ad alzare piante sbilanciarle il contrario di crudatura naturale di molto anche se è fuori 5 6 metri riusciamo a tirarla su abbiamo il cuneo meccanico che per chi magari fa fatica a battere i cuni che non è facile anzi è molto difficile inseriamo questo al posto del cuneo tradizionale e con il cricchetto o addirittura anche con un trapano riusciamo a far salire la pianta poi farla cadere il contrario di caduta naturale ecco più o meno poi abbiamo scusate la leva questa è una leva giralegni quando la pianta è abbattuta dobbiamo girarla per sramarla dalla parte opposta usiamo questo e invece questa questa va utilizzata nelle piantagioni un po più piccole sono piante piccole questa è una leva di abbattimento e al posto dei cuni o del martinetto idraulico va utilizzata questa questa leva per abbattere le piante in modo molto sicuro e molto facile in questo caso mi sono pulito l'area intorno alla pianta che andrò a tagliare per un semplice motivo per la mia sicurezza quando la pianta parte io dovrò avermi già preparato la via di fuga che è fondamentale durante l'abbattimento di una pianta devo andare più lontano possibile dalla parte opposta logicamente di dove cade la pianta procederemo con con il taglio di questa di questa pianta segnata in precedenza dal dottor forestale avrò bisogno di due collaboratori in questo caso perché dove andrò a buttare la pianta la mia zona di divieto in quella zona non ci deve essere nessuno è il doppio della lunghezza della pianta però io non vedo al doppio allora metterò uno alla mia sinistra e uno alla mia destra e prima di far cadere la pianta dovrò chiamare loro che nella zona di divieto non ci sia nessuno sicché mi avrò di 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 miei due collaboratori poi Sergio e Bruno andate adesso io eh dovrò valutare le dimensioni della pianta il diametro diciamo altezza petro duomo per poi procedere a al taglio il taglio l'abbattimento diciamo va fatto con tre tagli tacca di mira che va a indirizzare la pianta sarebbe la mia mira il mio mirino e la motosega anche il mirino poi andrò a fare il taglio a 45 gradi taglio obliquo che viene tirata via la cosiddetta tappa si chiama e poi il taglio di abbattimento che è quello che fa cadere la pianta che posso partire da dietro forarla come voglio ci sono tantissime tecniche e devo rispettare delle proporzioni un quinto entrata del taglio di abbattimento minimo 45 gradi la tacca che vado a tirare via il taglio obliquo e poi devo lasciare uno scalino tra il taglio di abbattimento e il taglio di mira di un decimo del diametro e anche una cerniera che poi sarà quella che mi guiderà la pianta dove io eh deciderò di buttarla in base a le caratteristiche della pianta alle caratteristiche delle altre piante intorno e prima di tutto della mia sicurezza sia a posto comissio mi oro oro con questa prova ho controllato per vedere se la pianta è sana o è marcia ho fatto un taglio verticale in direzione di dove devo buttare la pianta e in base al alla resistenza mi fa la motosega ad entrare e la segatura che viene fuori i truccioli vedo se la pianta è sana o è marcia con questa operazione ho tirato via i contrafforti radicali non avendo pendenze laterali non mi servono tanto e la pianta essendo sana se era marcia o pendenze laterali li lasciavo con questo sistema la pianta alla squadro vado molto meglio a fare le mie proporzioni come avevo spiegato prima adesso dovrò procedere con il taglio di mira che è quello che va a decidere dove andrà la pianta dovrà entrare circa un quinto del diametro la pianta fa 50 devo entrare circa 10 centimetri mi faccio dei riferimenti so che la barra e catena sono 10 centimetri quando io entro tutta barra e catena sono sicuro che sono 10 centimetri e poi mi devo fermare poi dovrò fare controllare e fare il taglio di 45 gradi non più dritto però il tondino è meglio ricordare senza tirarlo via dopo non più dritto però il tondino è meglio ricordare senza tirarlo via dopo quindi mi hanno detto cinque minuti l'esercizio è meglio ricordare e poi non più dritto però il tondino è meglio che si è toccato e poi la maniera è meglio di rimando il tondino è meglio direttamente 5 di cerniera, la pianta fa 50 e 5 di scalino. Questa zona qua per me è off limit, io non devo arrivare col taglio di mattimento oltre a questa zona qua. E questa qua è la zona che mi guiderà poi la pianta. La cosa quasi più difficile l'abbiamo fatta, di trovare la direzione di caduta e fare una bella tappa, come proporzione chiama. Adesso dovrò fare il taglio di abbattimento. Per avere un buon risultato la pianta deve andare dove voglio io, logicamente nella direzione che voglio io, non voglio che uno la prima volta prenda proprio il punto preciso dove è ammirato. Ma soprattutto la pianta deve partire quando lo decido io, non quando vuole lei. Io devo aver finito le mie proporzioni di scalino, di tacca di mira, taglio oblico, cerniera e scalino e la pianta deve rimanere ancora in piedi. Se parto direttamente da dietro questa pianta tenderà a partire da sola, sicché dovrò lasciare attaccato un pezzo dietro e tagliarlo per ultimo. Attenzione, pianta! Sì! 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 una cosa importante quando ho fatto questo è di controllare le fibre la cerniera lo scalino che lascio è una tavola che parte dal piede della pianta che va in cima dovrò controllare le fibre che siano dritte o a sfavore cosa significa se sono dritte corrono in verticale se sono a sfavore vanno verso l'avanti verso dove devo buttare la pianta che avrò molto meno tenuta di fibre per controllarle basta guardare la rigatura delle della corteccia o controllare con l'accetta in questo modo qua vedete vado con la punta dell'accetta spacco via il legno e vedo la fibra vedete che si rompe si rompe dritta va giù dritta fosse che la fibra andasse verso l'avanti verso l'attacca sarebbe un problema perché ho poca tenuta di fibra e vado a procedere con il resto del taglio e il taglio diciamo le mie proporzioni sono state fatte adesso procedo con l'ultimo stacco della pianta e poi la pianta cadrà in questo momento non ci deve proprio essere nessuno già prima però adesso ancora di più che dovrò riavvisare i miei movieri e poi io dovrò quando la pianta parte andare in zona di sicurezza Bruno Sergio Attu è molto importante quando faccio questo lavoro qua la postura di lavoro devo stare abbassato inginocchiato non con il culo alto e poi lavoro male con la schiena ed è importantissimo quando faccio questo taglio punto il rampone della motosega e lo uso come un perno e vado a mirare dove la devo buttare è molto importante che il taglio sia molto molto preciso che sia bello dritto devo avere un punto di appoggio da una parte dalla parte del motore c'è un rampone che va a puntare il tronco e con quello riesco a farla cadere a farla cadere a far delineare bene la mia direzione di caduta adesso procederò con il taglio più difficile da fare che quello a 45 gradi che se sono entrato 10 mi alzo di 10 poco più sono oltre i 45 gradi e deve combaciare perfettamente perché se no mi va a spostare tutti i miei calcoli che ho fatto in precedenza attenzione ok pianta terra potete venire allora il taglio è andato perfettamente come volevamo e per chi vorrà imparare l'importante di fare questo qua poi il resto dove va la pianta si imparerà da qua a me interessa da qua in avanti avete visto le proporzioni di cerniera perfette l'entrata del taglio di mira perfetto il la tappa che tiriamo via il taglio 45 gradi perfetto e la pianta è andata quando ho voluto io e dove ho voluto io il risultato di questo abbattimento di tutti gli abbattimenti che facciamo noi è frutto di esperienza di corsi che facciamo anche gli altri non solo per guadagnare soldi ma soprattutto per rispettare il bosco noi boscaioli non ci avventuriamo la mattina per distruggerlo il bosco ma siamo i giardinieri del bosco cerchiamo di far di tutto per salvaguardare il resto delle piante che rimangono in piedi rinnovazione tiriamo via le piante segnate dalla forestale piante mature che non hanno più niente da dare piante marce piante rovinate le tiriamo via per dare nuova linfa le piante giovani come questa che vedete abbiamo rispettato facendo cadere questa qua questa qua sarà il futuro questa andrà a fare legna a far mobili fa qualcos'altro però abbiamo il futuro e noi cerchiamo di fare questo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti